L'iniziativa domenica al museo istituita dal Ministero della Cultura ha consentito a molte persone di visitare gratuitamente la necropoli di Cervetri ed assistere a due appuntamenti culturali dell'associazione Archeteatron che ha regalato due spettacoli, uno sull'Eneide e l'altro nel Museo Nazionale Cerite relativo ad Eufronio. Per me è un grande piacere, in questi due appuntamenti ringrazio il direttore del Parco archeologico Cerveteri Tarquini, i suoi collaboratori e chi ha patrocinato anche l'iniziativa, la Regione Lazio e il Comune di Cerveteri. Ringrazio poi tutti coloro che hanno partecipato con me, gli attori che sono stati insomma molto attivi e devo dire anche grazie al tempo che ci ha graziato. Diverse volte che partecipano agli spettacoli itineranti del Maestro De Angelis e devo dire che ogni volta è una scoperta perché vedo proprio il miglioramento in ciascuno di loro, quindi ben vengano queste rappresentazioni con i ragazzi. I due appuntamenti hanno visto molta partecipazione, un primo passo verso nuovi eventi culturali all'interno del Parco archeologico. Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione istituzionale, è un'associazione che ha una grande esperienza e riesce a coniugare anche la qualità con la facilità di comunicazione. C'è stata una buona risposta da parte del pubblico e quindi pensiamo che possa essere anche un punto di forza, un'indicazione per il futuro, per le iniziative che svolgeremo sia a Cerveteri che a Tarquinia. Grazie.